Quale fatalità, già fissata dagli dèi onnipotenti, può essere evitata? Ma Cesare andrà avanti, poiché questi presagi valgono per Cesare quanto per il mondo intero. Divini presagi, divini presagi, sento il tuo impone, la voce degli dèi, la voce degli dèi. Sento attorno a me, la voce degli dèi, che sussurrano. Divini auspici, presagi dal cielo, divini moniti di ciò che verrà. E pian piano io comprendo, e ora certo io sento. Il fato è uno solo, il fato è io da solo, ma quel sacro giorno è vicino. Offerte agli dèi ma non vedo, e traccia non c'è di cuore. No, traccia non c'è di cuore. Antichi liti che mi dicono che saranno le pidi di marzo, il giorno eterno per me. Lamenti e pianti che mi circondano ormai da giorni. Vorresti sogni, lei mi racconta, lei mi prega di restare. Non posso stare più qui a guardare, devo andare là dove sarò re. Ma cosa vuol da me un indovino? Ora dimmi cosa c'è l'altro libro. La ruspice etrusco mi dice, tu non devi non andare. No, non devi non andare. Antichi liti che mi dicono che saranno le pidi di marzo, il giorno eterno per me. No, non devi non andare. No, non devi non andare. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Tutto questo è una storia Un ricordo immortale per l'eternità Grazie a tutti Grazie a tutti